Ben ritrovati a tutti, allora dopo un periodo di pausa che per gli appassionati probabilmente può sembrare interminabile riparte questo campionato con una gara contro la PMB che forse sulla carta può sembrare semplice ma che essendo comunque la prima partita, la prima uscita stagionale con i tre punti in palio, la prima gara che conta veramente ed essendo comunque una squadra nuova, la nostra cambiata quasi radicalmente può riservare appunto delle insidie dalle quali dovremmo saper ben difenderci ma nel roster della Visfondi è stata inserita sicuramente tanta qualità qualunque atleta venga inserita nel quintetto in campo da mister Cibelli quest'anno per la prima volta, almeno negli amichevoli, si è visto che il livello e la qualità di gioco espressa in campo non diminuisce e questo è sicuramente già un fattore positivo e fa ben sperare in vista del prossimo campionato Beh, questo è un campionato pieno di insidie dove a turno, come negli scorsi anni, sono sicuro che ogni squadra avrà e farà il proprio passo falso e alla fine sono convinto che vincerà chi riuscirà ad essere più costante degli altri nell'ottica dell'intero campionato Grazie a tutti